Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Vorrei che innanzitutto sostassimo sul tema della domanda. Che cos'è una domanda? Che cosa significa domandare? In noi umani abitano molte domande, cioè sentiamo una pulsione a conoscere, a sapere, a comunicare, che ci spinge a porre domande. È significativo che i bambini, non più infanti, pongano continuamente domande per conoscere il mondo in cui sono giunti. I genitori lo sanno bene, i bambini fanno più domande che affermazioni. L'umano è un essere che interroga e si interroga, quindi cerca una risposta. Ma le domande sono molto più decisive delle possibili risposte che non sempre emergono per soddisfarle. Se Platone faceva dire a Socrate che il più grande bene per l'uomo è interrogarsi su se stesso e diceva indegna di essere vissuto una vita senza tale attività, potremmo estendere questa considerazione a tutte le domande fondamentali che riguardano la condizione umana. Buonasera a tutti. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Rainer Maria Rilke, il grande poeta tedesco, non ancora trentenne, scriveva in una splendida lettera al giovane poeta Franz Kappus. Lei è così giovane e si trova così al di qua di ogni inizio, ma io vorrei pregarla di avere pazienza con tutto ciò che è irrisolto nel suo cuore. La pregherei di amare le domande stesse, come se fossero delle stanze chiuse a chiave o dei libri scritti in una lingua straniera. Non ricerchi ora le risposte che non possono esserle date, perché non sarebbe in grado di viverle. Ora viva le domande. Forse così un giorno lontano, a poco a poco senza accorgersene, si troverà a vivere la risposta. Rilke dà come consiglio al giovane di amare le domande più che le risposte, perché a volte le risposte non ci sono o non sappiamo trovarle, ma le domande sorgono, ci abitano, ci muovono, ci fanno cercare. E ci sono domande che ci vengono rivolte dagli altri, che noi possiamo ascoltare o al contrario neppure sentire, ma in ogni caso ci sono rivolte non foss'altro da un altro umano, uomo e donna, che ci porge il suo volto. Buonasera a tutti. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Il nostro cuore umano è abitato da domande. Da dove vengo? Dove vado? Chi sono io? Ciò che mi circonda è reale. E tra tutte le domande la più grave. Perché la morte mi attende? E dal profondo, dall'intimo di noi stessi, da quell'organo immaginario e simbolico che chiamiamo cuore, senza ben sapere dove collocarlo, che emergono pensieri buoni e pensieri malvagi, da cui procedono i desideri, il volere, l'agire. C'è un'affermazione del profeta Geremia che mi ha sempre intrigato. Il cuore dell'uomo è complicato e debole. Chi lo può conoscere? La fonte delle nostre domande è complicata e malata. Perché veniamo al mondo da un uomo e da una donna che hanno già conosciuto complicazioni e malattie, e nessuno di noi nasce senza bagagli. La nostra esistenza è tributaria verso la nostra radice, verso chi ci ha preceduto e ci ha generato, ed è plasmata anche dalla nostra storia. Le domande dunque generano un humus complesso e diverso per ciascuno di noi, ed è in questo terreno che la nostra personale volontà può decidere il bene e il male. Buonasera a tutti. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera. Nella Bibbia sono testimoniate domande sia rivolte a Dio dall'uomo, sia rivolte da Dio all'uomo. In questo dialogo tra l'uomo e l'altro, che chiamiamo Dio, in questa relazione che dall'inizio dell'umanità continua nella storia, vi sono molte domande. Va riconosciuto che le domande dell'uomo si riducono pur nella loro diversa espressione a una sola. Ci darai la salvezza e ci libererai dalla morte, o Dio? Le domande invece che Dio fa all'uomo sono diverse. Dio cerca l'uomo che si è allontanato da lui e lo chiama Adamo, dove sei? Terrestre, umano, tu che sei stato tratto dalla terra, dove sei? Domanda che interpella l'uomo in tutti i tempi e in tutte le generazioni. Dove sei? Che significa? A che punto sei del cammino di umanizzazione? L'altra domanda che Dio pone all'uomo sempre e in ogni momento è dov'è tuo fratello? Dopo la domanda al tu che riguarda ogni umano, dunque ognuno di noi vi è la domanda che concerne l'altro, gli altri, legati a ciascuno di noi dalla fraternità. Dov'è tuo fratello? Significa che rapporto hai con l'altro, che responsabilità senti verso di lui, che cura hai di lui. Tu fai vivere l'altro o lo uccidi? Buonasera a tutti. 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 Buonasera a tutti.